ciao a tutti lettrici e lettori e benvenuti o bentornati sul canale io sono andrea ed oggi vi porto un book tag super originale perché l'ho creato io stesso ovvero il pride book tag che è un book tag che io ho deciso di creare per celebrare il mese di giugno che appunto il mese del pride il pride month che come ben saprete il mese in cui si celebra l'orgoglio della comunità lgbt plus e si ricordano i moti di stonewall che sono dei moti di protesta avvenuti in america nel 1969 da parte di persone omosessuali e transessuali che hanno deciso a un certo punto di protestare contro le continue violenze le continue discriminazioni da parte della società e della polizia ma l'obiettivo di questo book tag è far conoscere quanti più libri con tematiche lgbt plus possibile a quante più persone possibile quindi invece che focalizzarsi più sulle nostre impressioni sui libri che abbiamo letto o su magari cosa ci ricordano certi libri vuole concentrarsi più su quali titoli potreste leggere quali titoli potrebbero interessarvi per approcciarvi o per approfondire questo tema ma cominciamo subito con le domande la prima domanda chiede primo libro con tematiche lgbt plus letto in assoluto e per rispondere a questa domanda io vi porto carry on di rainbow rowell che è il primo libro con tematiche lgbt plus che io ho letto dopo aver aperto il canale e in realtà non ricordo se prima avevo letto qualche altro libro con queste tematiche perché non tenevo traccia delle letture che facevo e leggevo molto più sporadicamente rispetto ad adesso e carry on è un libro fantasy per ragazzi che ho trovato molto carino tutto sommato mi sono piaciuti i personaggi la storia un po meno perché è un po una scopiazzatura di harry potter ma semplicemente perché il libro nasce come fan fiction all'interno di un altro libro dell'autrice che è fangirl in cui appunto c'è questa fan fiction su questa saga che ricorda molto quella di harry potter appunto e la componente lgbt all'interno del libro è data dal fatto che i nostri due protagonisti intraprenderanno una relazione di tipo omosessuale fra di loro e quindi dovranno sconfiggere il cattivo lo faranno insieme insomma è una storia molto carina che a me è piaciuta e quindi ve la consiglio seconda domanda che chiede un libro lgbt plus che consigli come prima approccia tema e come risposta vi porto ovviamente questo libro è gay di juno dawson vi ho già fatto tra l'altro la recensione di questo libro che vi lascio qui sopra nelle schede se volete saperne di più ma fondamentalmente questo libro è gay è una specie di guida anche se poi non così completa e non super super accurata alla comunità lgbt plus per chi si approccia magari per la prima volta a queste tematiche e quindi affronta aspetti come il coming out l'omofobia ma ci dà anche tante informazioni utili come ad esempio in quali paesi del mondo l'omosessualità è ancora un reato addirittura punita con la morte o ci dà anche indicazioni su come fare sesso sicuro insomma è una guida abbastanza dettagliata soprattutto per chi appunto si approccia per la prima volta a questi temi e tra l'altro juno dawson che appunto l'autrice del libro è una donna transessuale quindi intorno a questo titolo c'è molta rappresentatività la terza domanda invece chiede ultimo libro lgbt plus letto e l'ultimo libro con queste tematiche che io ho letto è stato proprio la stanza di giovanni di james baldwin che è un libro che secondo me affronta le tematiche lgbt plus in un modo davvero ottimo in un modo estremamente rappresentativo perché si parla dell'accettazione di se stessi dell'incapacità di accettare se stessi la stanza di giovanni infatti diventa la metafora per una persona che rinchiude una parte di se stesso appunto all'interno di sé per non mostrarla perché non si accetta e questa cosa poi ovviamente porta le persone a soffrire perché non riescono a vivere dei rapporti veri dei rapporti sani con gli altri perché essendo incapaci di amare se stessi non riescono nemmeno ad amare gli altri di conseguenza passiamo alla quarta domanda che invece chiede il libro con tematiche lgbt plus preferito e ormai se siete sul canale da un po sapete benissimo quale sarà la mia risposta perché la risposta giusta è sempre aristotele dante scoprono i segreti dell'universo di benjamin alire science non mi dilungherò troppo sul libro perché vi ho già fatto una recensione che magari vi lascio qui sopra nelle schede però aristotele dante aristotele dante ragazzi è il mio libro non solo il mio libro con tematiche lgbt plus preferito di sempre ma il mio libro preferito in assoluto non solo perché io personalmente mi sono riconosciuto sia nella storia sia nei due protagonisti della storia ma anche perché secondo me il libro è scritto in un modo talmente profondo ma allo stesso tempo così delicato che è davvero impossibile non innamorarsi dello stile di scrittura di benjamin alire science e della sua storia quindi se non l'avete ancora capito leggete aristotele dante perché c'è in tutte le lingue del mondo quindi sceglietene una e buttatevi su quel libro domanda numero 5 che chiede personaggio lgbt plus preferito e io per rispondere a questa domanda vi porto damen del principe prigioniero secondo me damen infatti è un personaggio estremamente positivo perché rimane sempre fedele ai suoi ideali rimane sempre coerente con quello in cui crede nonostante all'interno della storia si debba trovare ad affrontare situazioni davvero estreme e cambia all'interno della storia però sempre restando fedele a chi è veramente perché non solo è un figone alto due metri è anche buono è anche gentile è anche patatino e quindi come si fa ad ad amare damen ditemelo damen se hai bisogno sai dove trovarmi molto etero questo ventaglio effettivamente passiamo alla sesta domanda che invece chiede un libro con tematiche lgbt plus che non vedi l'ora di leggere e io non vedo davvero assolutamente l'ora di leggere find me di andre assiman ovvero il seguito di chiamami col tuo nome ebbene sì andre assiman ha lanciato questa bomba ovvero ci sarà un sequel a chiamami col tuo nome nonostante tutti sappiamo bene come è finito quel libro e sul fatto che non ci poteva essere assolutamente un sequel quindi questo mi rende ancora più curioso di sapere che cosa tirerà fuori dal cappello l'autore perché appunto sarà difficile andare avanti dopo quello che è successo nel primo libro ma vedremo e il libro dovrebbe uscire a ottobre se non sbaglio e da noi uscirà penso qualche mese dopo visto il successo che ha avuto chiamami col tuo nome qui da noi in italia quindi non vedo davvero l'ora e appena uscirà io leggerò subito immediatamente passiamo alla settima domanda che invece chiede coppia lgbt plus preferita e per rispondervi vi porto un'altra volta il principe prigioniero perché infatti la mia coppia preferita di sempre sono sicuramente damen e laurent in realtà ci sono diverse coppie all'interno dei vari libri che ho letto che mi piacciono molto però diciamo che damen e laurent sono la coppia di cui ho visto di più all'interno di un libro perché vediamo infatti quando si incontrano per la prima volta come cresce il loro rapporto ma soprattutto li vediamo anche in scene molto intime come le scene di sesso che secondo me aiutano a rendere più realistico il rapporto almeno nel caso del principe prigioniero che è una specie di fan fiction e in generale perché secondo me sono due personaggi molto belli e soprattutto sono uno l'opposto dell'altro quindi uno porta sempre all'altro ciò di cui l'altro ha bisogno passiamo poi la domanda shady beach di questo book tag che chiede un libro che non ha trattato bene la tematica lgbt plus e come risposta vi porto ovviamente l'amore migliore alla vita di angelo longoni vi ho già parlato di questo libro sul canale che è un libro che a me non è piaciuto per niente ho dato una stella ed erano secoli penso di aver dato una stella soltanto a due libri in tutta la mia carriera da booktuber però secondo me questo libro era di un trash ma di quel trash proprio brutto brutto perché doveva analizzare la reazione da parte di due coppie di genitori alla scoperta dell'omosessualità dei loro figli e invece è finito con una serie di tradimenti fra queste due coppie che che boh che cosa c'entravano con la storia perché doveva avere senso con l'omosessualità dei figli vabbè tiriamoci dei tradimenti così quando si trovano a cena per discutere di questa cosa va bene quindi io non vi consiglio assolutamente di leggere questo libro però se vi è piaciuto anzi fatemelo sapere qui sotto nei commenti ditemi perché vi è piaciuto perché io purtroppo non riesco davvero a capirlo arriviamo poi alla penultima domanda che chiede prossimo libro lgbt plus che leggerai e il prossimo credo proprio che sarà l'ultima notte della nostra vita di adam silvera che è uscito proprio ora di recente in italia e cui titolo originale era they both die at the end perché infatti ci troviamo in un futuro abbastanza prossimo in cui le persone sanno esattamente il giorno in cui moriranno perché c'è tipo un servizio di call center che ti chiama e ti dice guarda bello oggi è la tua ultima giornata sulla terra però ti abbiamo trovato un'altra persona che morirà come te domani quindi che ne dite di passare la giornata insieme è detta così sembra un po la fiera del non sense però in realtà sembra un'idea molto interessante e quindi nel libro vedremo un po questo rapporto che si instaura fra i nostri due protagonisti che cosa succederà anche se dal titolo penso si capisca già come andrà a finire questa storia e quindi niente io ho un rapporto un po conflittuale con adam silvera perché avevo letto history is all you left me che non mi aveva preso davvero per niente avevo abbandonato addirittura a metà quindi sono curioso di vedere se è migliorato un po con lo stile o se magari a me piacerà di più questo libro quindi vedremo infine l'ultima domanda chiede di taggare tre persone e io ho deciso di taggare tiffany di miss fiction books gabriella di fangirl in love with books e sarah di orange dinosaur hour perché sono davvero davvero curioso di sapere che cosa risponderanno alle domande ma in realtà mi farebbe tantissimo piacere se chiunque di voi ha un canale un blog un profilo instagram riproponesse questo book tag perché secondo me può essere davvero utile per far conoscere quanti più titoli con tematiche lgbt plus possibili appunto a tante persone perché non si parla ancora abbastanza di tanti temi al giorno d'oggi e quindi questo magari può essere un modo per portarli alla luce quindi se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto e magari nei commenti fatemi sapere che cosa avreste risposto voi alle domande quali sono i vostri libri lgbt plus preferiti quali invece non vi sono piaciuti insomma fatemi sapere qui sotto nei commenti perché in questo caso più che mai mi piacerebbe davvero sapere la vostra opinione detto questo io vi ringrazio per essere stati con me ancora una volta buon pride month e noi come sempre ci rivediamo nel prossimo video